Si tratta del Po de Circus, grande meraviglia, un po' il continuo di quello che abbiamo già fatto a giugno con il Po de Live riprende un po' lo stesso discorso del progetto della comunità educante in quanto si svolgerà proprio nello stesso parco, denominato appunto Parco Buio per tutta la questione dei ragazzi che lo hanno riguardato poi negli anni passati. È un continuo, dicevo, di questo progetto e grande meraviglia, lo vorrei sottolineare questo concetto perché rappresenta proprio il senso che gli vogliamo dare, quello di aprire un po' il cuore a questo sentimento. Volevamo un pochettino dedicare una giornata sia ai bambini ma anche alle loro famiglie. Si svolgerà sabato 5 ottobre, inizierà alle 16 più o meno e poi si protrarrà con degli appuntamenti fissi di spettacoli di artisti di strada fino a poi che insomma ci sarà gente in giro, insomma ci sarà da mangiare, la birra di oltremondo e quindi è una piacevole giornata e pre-serata insomma piacevole da condividere insieme. I bambini saranno coinvolti anche prima della manifestazione, in che modo? Si è pensato di coinvolgerli con il disegno, disegniamo il circo si chiama, i bambini sono invitati a disegnare secondo il loro punto di vista il circo, consegnarci il foglio il giorno della manifestazione, verranno poi esposti per fargli ammirare a tutti e sarà consegnato a loro un omaggio da parte nostra, insomma un modo per coinvolgerli prima della manifestazione e coinvolgerli ancora più durante la giornata stessa. Sono molto contenta di invitarvi a questo evento, questo è un evento importantissimo che si collega proprio a tutto il lavoro che l'associazione da sempre fa, favorisce la relazione, quindi le relazioni tra generazioni, quindi questo è molto importante, creare una comunità che sia vicino alle giovani generazioni, l'abbiamo fatto col Po The Live, continuiamo con i bambini, un'associazione, un quartiere che abbia cura di queste nuove piccole generazioni, i bambini hanno bisogno di cura, di custodia e quindi li invitiamo ovviamente a venire qua al parco del Po The Circus per poter passare insieme alle loro famiglie dei momenti di spensieratezza e soprattutto di relazione.